Ieri sera tre preziosi punti sono stati conquistati all'ultimo respiro grazie alla rete di Federico Gatti al 94esimo garantendo così alla Juventus una vittoria per 2-1 sul campo del Monza questo successo in extremis è giunto dopo il pareggio di Brianzoli segnato da Valentin Carboni all'inizio del recupero la risposta caratteriale dei bianconeri ha consentito ad Allegri di ottenere la sua prima vittoria in Serie A contro la formazione di Palladino il finale emozionante ha regalato non solo momenti di gioia ma anche attimi di tensione evidenziati dall'episodio acceso tra Roberto Gagliardini e Adrienne Rabiot che ha poi trovato eco anche sui social dopo il gol del pareggio del Monza il centrocampista ex Atalanta Inter ha festeggiato in modo provocatorio di fronte al francese della Juve il quale fino a quel momento stava decidendo l'incontro con un suo gol questo gesto di esultanza tuttavia si è rivelato un boomerang poiché nell'azione successiva il karma ha colpito Gagliardini e il Monza con la rete di gatti ispirata da un'ottima giocata proprio di Rabiot dopo la partita Rabiot ha affrontato l'episodio sul suo profilo Instagram rispondendo con grande eleganza alla provocazione ricevuta e voi al posto di Rabiot cosa avreste fatto?